Un posto al sole Un posto al sole, trame 16-20 ottobre, la testimone misteriosa Un posto al sole Anticipazioni Un posto al sole, prossima settimana, i sensi di colpa di Patrizio Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì, alle 20.40 circa, su Rai 3. I personaggi credibili e le storie attinenti alla realtà decretano ogni giorno il successo di un posto al sole. Patrizio ha tradito Rossella con Asia, Raffaele non riconosce più suo figlio, cosa sarebbe disposto a fare pur di vincere il talent di cucina? Dopo aver scoperto la verità sul sabotaggio in palestra, Angela cerca di riavvicinarsi a Franco ma i suoi tentativi risultano vani. Guido rimane incastrato nellorganizzazione della festa per il pensionamento di Otello. Le anticipazioni di un posto al sole dal 16 al 20 ottobre svelano che Patrizio si sente sempre più in colpa per aver tradito Rossella ma qualcuno sta per scoprire la verità. . Alice confessa a Marina che la settimana precedente Roberto Ferri è stato con lei e Elena. La Giordano non è affatto contenta. . Otello si gode gli ultimi giorni da vigile. . Patrizio deve fare i conti con il suo tradimento. . . Raffaele, che ha scoperto tutto, vuole che il figlio affronti Rossella. . Ferri respinge le accuse di Marina, pensa che lei sia solo gelosa del rapporto che lui ha con Elena e Alice. . 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